ben trovati nel tutorial che segue andremo a parlare di diminuzioni esterne a inizio e fine riga andrò a lavorare le mie diminuzioni su un campioncino fatto con il punto base tunisi ma naturalmente sono delle diminuzioni che potrete applicare a qualsiasi lavorazione a qualsiasi punto adattando la diminuzione al punto di lavorazione vengono fatte nel giro di carico dei punti naturalmente è una delle tante possibilità di diminuzioni in seguito cercherò di farvi vedere anche le altre intanto con queste diminuzioni semplici di un punto andremo a concludere il primo ciclo di tutorial dedicato alla tecnica tunisina un ciclo di tutorial di primo livello effettuare le diminuzioni è molto semplice a inizio riga non facciamo altro che entrare semplicemente in due punti per avere la nostra diminuzione tenuto conto che il punto di margine noi non lo lavoriamo se non per gli aumenti così sarà anche per il punto di margine di fine riga quindi vado ad effettuare la mia prima diminuzione di un punto entrando semplicemente nelle due asoline del secondo e terzo punto dopo quello di margine che noi contiamo per uno ma che non viene lavorato quindi entrata nelle due asoline estraggo il filo ed ottengo la mia diminuzione continuo lavorando i punti centrali entrando in ogni punto da lavorare e fino ad arrivare all'altro lato dove abbiamo l'altro punto di margine la diminuzione di fine riga funziona allo stesso modo di quella di inizio riga noi per avere la nostra diminuzione di un punto entreremo nei due punti prima di quello di margine quindi il terzo ultimo ed il penultimo entro in tutte e due le asoline vedete carico il filo ed estraggo il punto che lascia in sospesso sull'uncinetto il punto di margine lo andiamo a lavorare così come siamo abituati a fare entrando in tutte e due le asoline che compongono la catenella finale estraggo io ho concluso il giro di carico partiamo con il giro di scarico punti e lo lavoriamo normalmente come facciamo per il ritorno dei punti base quindi la prima la andremo a scaricare singolarmente tutte le altre due alla volta ho terminato tutta la riga di ritorno e scarico punti e vedete che la nostra diminuzione è appena appena accennata come potete notare io sto lavorando con un uncinetto normale perché per i nostri campioncini possiamo benissimo utilizzare i nostri uncinetti classici sempre usando un 1 2 numeri maggiori a quello che normalmente andremo ad usare per il filato che stiamo lavorando questo perché per dare più morbidezza alla lavorazione che già è bella consistente di suo io anche per le mie lavorazioni grandi che sto facendo ne tengo 2 3 in ballo sto usando i miei uncinetti classici che ho adattato alla lavorazione se volete anche voi provare prima di fare i vostri acquisti trovate sul canale il tutorial che vi spiega come adattare i vostri uncinetti classici alla tecnica tunisina partiamo con un altro giro per andare a vedere delineate le nostre diminuzioni facciamo nel giro seguente come abbiamo fatto per quello precedente andiamo ad effettuare la nostra diminuzione entrando nei due punti successivi a quello di margine estraggo il filo e lascio in sospeso e continuo la mia lavorazione fino ad arrivare all'altro lato a fine riga per la nostra diminuzione procederemo come abbiamo fatto prima entrando nei due punti precedenti a quello di margine ecco qui ne tengo da lavorare ancora un altro vedete sono ai due punti prima di quello di margine non faccio altro che entrare in tutti e due ed estrarre la mia a solina l'unica accortezza che dobbiamo avere adesso è quella di andare a pescare il punto di margine giusto quindi questa è la catenella di chiusura del primo punto e questa è quella che compone il punto di margine e nella quale noi entriamo in tutte e due le assoline quindi estraggo e parto con il giro di ritorno scarico la prima le successive due alla volta fino a terminare anche questa riga vedete come si incomincia a delineare la curva graduale data dalle diminuzioni facciamo ancora un'altra riga quindi entro i due punti successivi e vado ad effettuare la mia diminuzione continuo sui punti centrali lavorando tutti i punti uno alla volta ecco qui e mi fermo sui due punti precedenti a quello di margine entro in tutte e due i punti il terzo ultimo e il penultimo ed estraggo la mia a solina entro nel punto di margine un attimo che ecco qui devo pescare quello la solina dietro eccola estraggo e parto con lo scarico dei punti la prima singolarmente le restanti due alla volta come avete potuto vedere le diminuzioni sono molto molto facili basta soltanto prestare un poco di attenzione nella parte finale della riga dove il punto di margine vedete che si va a nascondere e si confonde con il punto di chiusura della prima a solina potete continuare con le vostre diminuzioni fino a quando non avrete raggiunto la forma che voi avete deciso stiamo lavorando in contemporanea le diminuzioni di destra con inclinazione a sinistra e di sinistra con inclinazione a sinistra così invece è come si presenta la sola diminuzione di fine riga quindi da sinistra con inclinazione inclinazione a sinistra ecco quando vi dicevo di fare attenzione al punto di margine di prendere tutte e due le agli anellini vedete come il bordo è ben definito da questa sorta di catenella spero che anche questa volta il tutorial sia stato utile se non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale e se avete piacere di seguirmi attivate la campanella e riceverete le notifiche per le anteprime dei prossimi tutorial intanto io vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione a presto